Cari amici, bentrovati. Oggi nuovo video tag che ho visto nel canale di Buon Appetito con Flo. Un grande saluto a Floriana. La cucina secondo me. Sono dieci domande appunto sul mondo del culinario. A proposito di cucina, sto organizzando alcune video ricette fatte da me con i piatti tipici siciliani ma anche non siciliani visto che adoro il Giappone e nei prossimi video parlerò sia del Giappone e quindi sia di cucina. Quindi preparate e accendete i fornelli. Iniziamo subito. Il piatto a cui non rinunceresti mai. Allora, ad istinto risponderei subito pizza. Mangerei pizza a qualunque orario e in qualunque luogo. Però non rinuncerei agli arancini, anche alle focacce e sicuramente non rinuncerei mai e li preferirei a un bel piatto di tortellini e anche a un bel risotto come lo faccio io. Vi darò presto la ricetta. Qual è il piatto che ti ricorda la tua infanzia? Beh, sicuramente la pasta al forno di mia nonna e come secondo il pollo con le patate sempre al forno. Domanda numero 3. Dolce o salato? Assolutamente salato. Mangio pochi dolci, non perché non mi piacciono ma perché il salato ha il primo posto. Quali sono i tre ingredienti che non possono mancare nel tuo frigorifero? Succo d'ananas, pesce, adoro il pesce, e pomodori tipici della mia regione. Qual è l'attrezzo da cucina che utilizzi di più? Fondamentalmente utilizzo il coltello. Tutti questi marchi ingegni pubblicitari in cui ti tagliano le verdure con quel coso di plastica, io li odio. Sappiate usare bene il coltello. Hai mai usato la cucina per conquistare una donna? Ma certamente. A che età hai iniziato a cucinare? Ahimè, tardi, però non è un problema. Se c'è la passione, puoi fare tutto. Cucini i piatti tipici della tua regione? Beh sì, non sto a ripeterli, però già alcuni li ho citati. Assolutamente sì. Poi si sa bene che il cibo, anzi le ricette, i piatti tipici della Sicilia sono conosciuti in tutto il mondo. Non hanno bisogno certamente di pubblicità, ma di essere provati. Quindi preparatevi a un'invasione di ricette siciliane. Domanda numero 9. Qual è l'ultimo piatto che hai cucinato? Ieri ho fatto un couscous vegetariano, semplice, semplice. Ultima domanda. Descrivi con un aggettivo cosa significa la cucina per te. Assolutamente. Passione. Passione e amore. Bene, ho terminato il video tag. Se vi va rispondete pure. Sono curioso di conoscere le vostre risposte. E ci vediamo presto con un nuovo... E ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! Ciao!